Ciao amici di Ernest News, sono dai Philippars, vi presento il mio nuovo team di P19 Racing. Siamo qua a Riola Sardo per i primi allenamenti invernali e per la prima prova dell'italiano. Come potete vedere ho la nuova moto, il nuovo team, il nuovo abbigliamento, quindi sono carico per quest'anno. Ho fatto un super allenamento qua in Sardegna, abbiamo girato tantissimo sulla sabbia, duro, fango, con la pioggia e quindi sono super carico per questa nuova esperienza e vi aspetto tutti alla prima gara a Riola che è tra qualche giorno. Ciao! Grazie!